Sono 110 ragazzi iscritti più una trentina di animatori che stanno dietro un po' i bambini di tutte le fasce di età, vanno dalla prima elementare, quindi 6 anni, fino alla seconda media, quindi 12 anni, 12-13 anni di iscrizione. Questo è l'undicesimo anno che lo facciamo qui, incentrato su due settimane, perché poi noi alla fine dell'estate ragazzi abbiamo una settimana di attività con i bambini di quarta e quinta elementare in una casa canonica che abbiamo qui vicino a Bologna e quindi concludiamo un po' il percorso estivo delle attività con i bambini con due settimane più queste settimane di campo. Di solito si riempie subito anche perché i bambini sono i bambini del catechismo che si frequentano durante l'anno e poi concludono un po' l'annata catechistica con queste due settimane insieme di attività e di catechesi vere e proprie, perché alla fine poi all'interno dell'attività che facciamo cerchiamo di far passare un messaggio un po' di catechesi che raccoglie un po' le attività che abbiamo fatto durante l'anno e vediamo un pochettino di incentrare anche sul tema di quest'anno, insomma, sul tema dell'anno di estate ragazzi. La nostra attività è divisa fra i bambini piccoli di prima e seconda e terza elementare, i bambini grandi dalla quarta elementare alla seconda media dove facciamo le stesse attività però un pochino più adattate alle fasce di età. La mattina si svolge con delle attività e dei giochi, poi il pranzo verso mezzogiorno, il pomeriggio dopo un po' di tempo libero lo dedichiamo ai laboratori, alla drammatizzazione, un po' di merenda e alla preghiera conclusiva alla quale invitiamo anche i genitori per far sì che sia un momento conclusivo insieme anche alle famiglie. Quando io ero bambino, state l'estate ragazzi, mi sono divertito un sacco però ammetto che mi piace di più fare l'animatore che essere un bambino perché mi diverto il doppio.